Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Come sempre guarderemo i giornali in edicola questa mattina, non prima però di aver visto l'almanacco del giorno, oggi sabato 24 ottobre, Sant'Antonio Maria Claret, Vescovo, il sole è sorto alle 7.33 e tramonterà alle 18.12. Guardiamo anche le previsioni del tempo, prima partiamo dalla nostra postazione meteo che ci rimanda a una temperatura di 11 gradi, una percentuale di umidità del 79%, quindi la percezione è fresco, un bel frescolino, frizzante tutte le mattine e vedete anche il cielo come si presenta in questo momento con la nostra webcam, terzo da nubi, non ci sono nubi all'orizzonte e conferma anche questo da parte della protezione civile con una grafica molto eloquente, vedete sole pieno su tutta la costa, leggeri addensamenti nuvolosi sul crinale appenninico, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso, precipitazioni assenti e le temperature sono stazionari, quindi insomma previsione sul bello per oggi sabato, ma anche domenica domani non sarà malaccio, sereno, poco al più nuvoloso per transiti di lievi di innocue velature, insomma quindi precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento nei settori interni, quindi vedete comunque bel tempo anche per domenica e anche lunedì c'è una intensificazione della nuvolosità, però insomma il cielo sarà sereno, poco più nuvoloso per insomma lievi stratiformi in graduale intensificazione nel corso del pomeriggio o sera, quindi insomma si andrà verso una fine di giornata lunedì un po' più impegnativo dal punto di vista della nuvolosità, però le precipitazioni sono assenti. Vediamo la tendenza per i giorni successivi, dal pomeriggio della giornata di mercoledì vi sarà un probabile peggioramento delle condizioni meteorologiche, quindi insomma inizieremo la settimana col bel tempo, però insomma da metà settimana in poi vedremo che evoluzione ci sarà, dicono gli esperti e i modelli matematici sul peggio, vedremo insomma oltre i tre giorni è un po' fanta meteorologia. Scendiamo nel particolare dei giornali, iniziamo con la rapina in villa, siamo a Fano e siamo con il resto del Carlino, rapina in villa, un'altra notte di terrore. A Cucurano tre malviventi forzano una finestra con un pezzo di ferro e un frulino ed entrano nella casa di Massimo Iacucci e i ladri lottano con la padrone di casa prima di averla vinta, portano via un bottino di 700 euro e dei gioielli e Iacucci dice se avessi avuto un'arma adesso sarei messo come quello di Milano, ma la pistola invece ce l'avevano loro. Lo ritroveremo insomma la rapina in villa anche negli altri giornali con diverse considerazioni proprio del malcapitato. Rimaniamo nel resto del Carlino e rimaniamo a Fano, si parla di jazz, jazz fuso con il carnevale, quindi è un carneval jazz, lo presenta la Confcommercio perché dice serve una manifestazione in bassa stagione e poi l'associazione presenta da sola. Il programma estivo 2016 e Marchegiani a difesa del festival. La di spalle sulla pagina del resto del Carlino di Fano, la polemica con Carnevalesca e Carristi non accenna a diminuire, anzi la Carnevalesca replica ai Carristi, a parlare è il vicepresidente Alessandro Leonelli che non aveva mai fino ad ora commentato, però adesso sbosta dicendo non se ne può più e dice non siamo l'ufficio di collocamento perché se i fondi quest'anno ce ne sono meno bisogna farsene una ragione e dice anche rincarando un po' la dose, se chiedete a un qualsiasi cittadino quali carri hanno sfilato nel 2015 non se lo ricorda, se invece gli chiedete come è andato il getto sa anche dirvi quanti i baci ha preso, naturalmente riferendosi ai baci perugina al getto del Carnevale che contraddistingue il Carnevale di Fano. Ultima pagina per Fano del resto del Carlino, un libro presentato da padre Mandolini che parla del Monte di Pietà come un momento particolare, sono parte della nostra storia dice padre Mandolini e poi si toglie anche un sassolino nella scarpa, dice perché la predella del Perugino del Raffaello è sempre in giro per il mondo e lontana da Fano potrebbe stare un po' di più a Fano a vantaggio di tutti e qui insomma in questa intervista parla del libro e anche di altre cose andiamo nella pagina del resto del Carlino che riguarda Fano, Pesaro, chiedo scusa Fano l'abbiamo appena vista e tartassati, si parla di tasse, vessati solo i camionisti pesaresi, l'agenzia delle entrate chiede 320 mila euro e fa anche l'appello, il contenzioso riguarda gli autotrasportatori locali che lavorano con ditte di San Marino viene contestata a loro la mancata fatturazione dell'IVA, sono coinvolti in 50 autotrasportatori. L'allarme sicurezza non cala perché insomma non solo negli appartamenti, non solo nelle case insomma anche gli esercizi commerciali, l'abbiamo visto nelle croniche anche degli ultimi giorni sono presi di mira dai malviventi, saccheggio in piscina poi in bar e ristoranti colpo nel parco della pace, rubate anche slot a Villa Ceccolini e incursioni anche alla Giara vedete le immagini delle telecamere di videosorveglianza, uffici, bar, tutto a soquadro insomma veramente momenti particolarmente cruenti. Al bar Movi, i ladri appunto dicevo ripresi dalle telecamere, due prelevano le slot, l'altro i biglietti del Gratta e Vinci, tanti sono i bersagli che vengono presi di mira appunto dicevo partendo da case private edifici e esercizi pubblici, non si fanno scrupolo di nulla. Cambiamo la testata, andiamo nel Corriere Adriatico, anche qui vi dicevo la notizia a Firrugio cioè la rapina da Iacucci, pistola in faccia, rapinato in casa, i tre malviventi assaltano la villa a Cucurano, cassaforte svaliggiata, qui il cognato del rapinato, vedi mostra con il dito io ve lo indico con la freccia, il lato dal quale sono entrati i malviventi come più volte ha detto la polizia e anche il dirigente della polizia di Stato Seretti nel intervista che ha rilasciato anche a noi e più volte insomma, i ladri cercano di entrare dai lati meno visibili della casa, cercano anfratti, cercano finestre poco illuminate insomma e come vedete anche qui nella fotografia indicata appunto dal cognato insomma il lato è proprio il lato, il fianco della villa, poco esposto e quindi insomma per agire il più indisturbati possibile. Fanno sempre lotta l'amianto, l'amianto avviata la bonifica al Palasport Salvador Allende, la ditta garantisce le misure di sicurezza vedete qui il sopralluogo degli amministratori locali per seguire appunto i lavori non ci sarà dispersione di fibre, maschere e ossigeno per gli operai poi tocca alla palestra Venturini, il prossimo obiettivo per la bonifica andiamo a Pesaro con il Corriere Adriatico falsi fruttivendoli, rapinavano i clienti, arrestati due napoletani vicini di casa malmenarono anche un operaio aggredendolo in via Hermada ecco la foto dei due arrestati e la conferenza stampa dei carabinieri dove hanno illustrato i termini di questa operazione brillante il più giovane dei due banditi è il domiciliare mentre il capo è rinchiuso nel carcere di Poggio Reale, si tratta di due soggetti molto pericolosi che non esitavano a usare violenza sulle ignare vittime cambiamo la testata, andiamo a Pesaro con il messaggero nella pagina centrale, fotonotizia anche qui la rapina in casa a Cucurano, in balia dei banditi armati e poi altre azioni degli inquirenti hanno portato ad arrestare e incastrare un ricercato, la caccia ai ladri seriali però finisce con incastrare un ricercato, arrestato a Fano, era sfuggito alla cattura nell'operazione Titano, in testa però si parla di sanità Maria Capalbo giusta per Marche Nord, il governatore Ceriscioli presente il nuovo direttore generale, giudicatela dice in base ai risultati e non ai pregiudizi ospedale il progetto per ripartire sul fronte edilizio e su quello organizzativo ma resta il nodo del budget che è un budget ancora provvisorio e poi a pie pagina una manifestazione, un evento in teatro al teatro sperimentale a Pesaro alle ore 21 di questa sera Antonella Ferrari porta in scena il suo spettacolo, la sua lotta contro la sclerosi multipla, appunto è madrina portavoce dell'Aism, per riflettere sulla malattia anche con un sorriso, il biglietto è al costo di 10 euro ed è acquistabile nel botteghino e ancora nelle pagine del messaggero di Pesaro, appunto la presentazione di Maria Capalbo come nuovo DG di Marche Nord e Capalbo è la scelta giusta, questa è la considerazione di Ceriscioli, subito gli atti che metterà in campo sono questi, subito 15 posti letto in più per la medicina d'urgenza, il primo giorno dal direttore generale l'ha trascorso al polo di Muralia, si può fare di più, ha enormi potenzialità e poi l'azienda ospedaliera deve far fronte dal punto di vista edilizio organizzativo a un restato, una ripartenza appunto, dicevo, rimangono sospese le questioni legate al budget e anche al nosocomio unico l'ospedale unico sarà un tema ricorrente nei prossimi mesi perché le scadenze stanno per arrivare e vediamo se i due sindaci Ricci e Seri si metteranno d'accordo sul location dove farlo questo ospedale unico, però Ceriscioli in conferenza stampa è stato categorico su questo ha detto, l'ospedale unico si farà. Ancora nelle pagine del messaggero il comune, siamo a Pesaro, segnala i furbeti e recupera i soldi dell'evasione, l'amministrazione sono spettati oltre 80 mila euro di introiti, una sessantina i casi girati all'Agenzia delle Entrate per le verifiche, l'assessore delle Noci dice si tratta soprattutto di compravendite di immobili tra privati in cui la vendita veniva fatta appunto così in nero, nulla veniva dichiarato. Furzi anche nella notte a Villa Fastigi e qui insomma anche su Pesaro l'allarme ride notturni non cala, slot, machine, bar, giardini, un vivaio e anche un furgone per caricare tutto insomma è stata una notte impegnativa anche a Pesaro. L'ultima pagina che vi propongo è quella del messaggero di Fano, si risveglia in balia dei ladri appunto armati di tutto punto che gli dicono zitto e dacci i soldi, una mano sulla bocca per farlo tacere e qui vedete in questa foto mostra proprio qui nel tondo in rosso il punto dove con probabilmente un cacciavite, insomma un grosso piede di porco hanno forzato la finestra e sono entrati. Notte da incubo per Massimo Iacucci, artigiano di 57 anni e appunto che si è ritrovato con la pistola puntata in faccia. Cucurano è sempre più bersaglio di ladri seriali. Questo è una considerazione che abbiamo fatto altre volte, fotografie e pigmenti, vengono inaugurati due mostre, due belle mostre a Fano, una alla Memo Deca Montanari alle 17.30, si parla di fotografia, la storia della fotografia italiana raccontata attraverso collezioni private di macchine fotografiche, alcune veramente molto belle e realizzate a mano e poi invece nella chiesa di San Michele all'Arco d'Augusto Pigmenti, una mostra collettiva con diversi artisti. Anche qui nel messaggero di Fano, Fconfcommercio rilancia il Carnival Jazz, musica mascherata con eventi trainanti dell'estate ma anche qualche problema potrebbe sorgere con il più noto festival jazzistico, si vuole ricalcare un po' lo schema di New Orleans, la patria delle jazz che ha anche un carnevale veramente spettacolare e qui ci si vuole ispirare a questo per coprire periodi di bassa stagione, infatti il periodo in cui si pensa a questo evento è giugno, periodo in cui gli alberghi non sono pienissimi. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, questa era la Sena Stampa di Fano TV, naturalmente dal lunedì al sabato sempre in inizio di giornata con voi, quindi tornerà lunedì mattina alle 7.30, per intanto buon weekend e buon fine settimana a tutti voi. Grazie per la visione!